L'iniziativa nasce proprio da questi obiettivi, quello di far conoscere la Banca d'Italia, il ruolo della Banca d'Italia, ma in questo modo contribuire anche un po' alla cultura finanziaria, perché c'è bisogno di accrescere la cultura finanziaria del Paese. E noi con questa iniziativa vogliamo portare il nostro contributo, così come anche volerci avvicinare alle comunità, ecco perché è un'iniziativa aperta alla cittadinanza, aperta al pubblico, anche per far capire che parlare di questi aspetti è importante per la vita di tutti i giorni, per la vita di tutti noi. È molto importante, io sono un estimatore alla Banca d'Italia, lo ero anche quando svolgevo un'altra attività, quando stavo in Parlamento, perché la Banca d'Italia ha uno dei centri studi più importanti del Paese, ha la capacità di misurare l'impatto delle politiche pubbliche e credo che questo sia molto importante per tutti i decisori politici e istituzionali. È bello vedere che ci siano tanti giovani perché i giovani devono rendersi conto di come funziona l'economia, di come siano interconnesse le variabili dell'economia reale con quella dell'economia finanziaria, come incidano per esempio i alti costi dell'energia sull'inflazione, l'inflazione sui tassi di interesse, i tassi di interesse sugli investimenti e quindi sul bilancio delle loro famiglie. È giusto che se ne abbia consapevolezza ed è bello che un'istituzione che molti vedono come distante, come la Banca d'Italia, invece si apra alla conoscenza e alla divulgazione di questi contenuti, soprattutto con tanti giovani che vedo oggi qui presenti. La Corte dei Conti ha detto sostanzialmente che c'è evidentemente un cambio di passo in molti ambiti, persino nella sanità, dove ancora dobbiamo fare molto per garantire il diritto alla cura dei calabressi, ma per esempio la Corte dei Conti ha riconosciuto che la contabilità della Calabria non è più orale, come si diceva un tempo, abbiamo quantificato il debito, abbiamo dimostrato che siamo in avanzo di amministrazione. In altri ambiti abbiamo velocizzato la spesa dei fondi comunitari, del fondo di sviluppo e coesione, quando mi sono insediato c'erano circa 2 miliardi che i miei predecessori non avevano speso, fra qualche mese l'Italia saprà che la Calabria ha speso tutte le risorse degli anni passati. Quindi c'è tanto lavoro e c'è anche la consapevolezza però che questo lavoro produrrà degli effetti negli anni che verranno, perché per quanto importanti possano essere gli sforzi di un governo, anche di un governo regionale, soprattutto in Calabria, dove ogni anno 15 mila, 20 mila ragazzi lasciano la Calabria, si determina una situazione per la quale vanno via non solo 15 mila, 16 mila vite, speranze, pezzi di futuro, vanno via 15 mila, 20 mila pezzi di prodotto interno individuale che quindi sostanzialmente fanno diminuire costantemente il prodotto interno della regione e quindi l'intervento sui dati macroeconomici è molto più lento e si avrà davvero quando ci saranno reali possibilità per i giovani di rimanere in Calabria, di costruire in Calabria le loro occasioni di lavoro.